io sono tua madre chiedi e ti donerò quello che desideri preghiera alla madonna di fatima nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen preghiera di affidamento alla madonna madre maria vergine santa affido a te il mio cuore affinché possa splendere di pace e di amore affido a te le mie paure e le mie sofferenze affido a te tutte le gioie i sogni e le speranze resta con me o maria affinché tu possa proteggermi da ogni male e da ogni tentazione resta con me o maria affinché non manchi mai dentro me la forza di pregare per tutte le famiglie per tutti i giovani e tutti gli ammalati madonna miracolosa donna il coraggio e l'umiltà di perdonare sempre madonna miracolosa affido a te la mia anima affinché possa diventare una persona migliore da quella che sono amen preghiera alla madonna di fatima maria madre di gesù e della chiesa noi abbiamo bisogno di te desideriamo la luce che si irradia dalla tua bontà il conforto che ci proviene dal tuo cuore immacolato la carità e la pace di cui tu sei regina ti affidiamo con fiducia le nostre necessità perché tu le soccorra i nostri dolori perché tu li lenisca i nostri mali perché tu li guarisca i nostri corpi perché tu li renda puri i nostri cuori perché siano colmi di amore e di contrizione e le nostre anime perché con il tuo aiuto si salvino ricorda madre di bontà che alle tue preghiere gesù nulla rifiuta concedi sollievo alle anime dei defunti guarigione agli ammalati prezza ai giovani fede concordia alle famiglie pace all'umanità richiama gli erranti sul retto sentiero proteggi il papa i vescovi e la santa chiesa di dio maria ascoltaci e abbi pietà di noi volgi a noi tutti i tuoi occhi misericordiosi dopo questo esilio mostra a noi gesù frutto benedetto del tuo grembo o clemente o pia o dolce vergine maria amen preghiera per chiedere una grazia alla madonna o maria madre di dio madonna miracolosa mi rivolgo a te che per il volere del padre per il sì del figlio in virtù dello spirito santo custodisci il verbo nel tuo grembo materno mi rivolgo a te perché a te fui affidato dal tuo figlio sulla croce mi rivolgo a te che sei madre della chiesa per ringraziarti del dono della vita il cui autore tu stessa hai offerto al mondo facendoti serva del tuo dio nel silenzio del tuo cuore senza esitare un solo istante io povero peccatore ricorro alla tua intercessione affinché il signore mi conceda la conversione del cuore e in particolare la grazia di per gesù cristo nostro signore che a dio e vive e regna con dio padre nell'unità dello spirito santo per tutti i secoli dei secoli amen nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen grazie a tutti